Salvata la Banca Popolare di Bari. L'altro ieri l'Assemblea dei Soci dell'ormai ex cooperativa ha dato il via libera alla trasformazione in società per azioni e all'aumento di capitale che vedrà l'ingresso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con 1 miliardo e 170 milioni di cui 364 milioni già anticipati. Il salvataggio prevede anche l'ingresso della Banca Pubblica a microcredito centrale che assumerà il controllo dell'istituto aggiungendo altri 430 milioni. E' questa la prima tappa, hanno detto i commissari straordinari, della creazione della Banca del Sud. Il piano prevede 650 esuberi e 91 filiali in meno e ha ricevuto l'approvazione dei sindacati di categoria. La banca è salva, adesso si passa a una nuova fase, alla creazione di questa banca che sarà la banca, si dice, del meridione e che quindi dovrà creare le basi per lo sviluppo anche sul nostro territorio. Noi stiamo lavorando con la nostra denuncia che andrà avanti, con la commissione di inchiesta parlamentare. Non moleremo perché pensiamo che quanto è accaduto in Abruzzo non ha responsabilità nel nostro territorio ma è altrove, quindi cercheremo di fare luce perché la nostra regione, il nostro territorio, abbia un risarcimento per quanto è accaduto, perché siamo convinti che invece c'è un'altra storia da riscrivere. In Abruzzo il maggior numero di filiali che verranno chiuse, incerto il futuro dei lavoratori, mentre il procedimento giudiziario dovrà accertare le responsabilità del crack dell'istituto bancario. Abbiamo cercato di bilanciare e di far coincidere gli interessi di chi può andare, può uscire dall'attività lavorativa attraverso gli strumenti che abbiamo e quelli che rimangono al lavoro. Aspettiamo di sapere quale funzione debba avere questa banca del mezzogiorno. Certo, noi siamo la regione più penalizzata in termini di chiusura degli sportelli, che tra l'altro non riusciamo ancora ad avere la lista degli sportelli che chiudono. Probabilmente si è voluto attendere l'esito non tanto dell'accordo ma dell'Assemblea dei Socii, che comunque ha deliberato circa il 96% e hanno votato a favore della trasformazione in SPA. Ci aspettiamo però che ci sia un futuro, un futuro per tutti, soprattutto per coloro che rimangono al lavoro e cerchiamo anche di smussare alcune cose dell'accordo che è stato sottoscritto.